Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Aileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vi farò ascoltare un estratto tratto dal romanzo Penelope di Anya Wilde, tradotto da Mirella Banfi. Si tratta del primo volume della serie Historical Romance dedicata alle sorelle Fairweather. Sul canale trovate anche gli estratti degli altri tre volumi. Ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e, se vi va per i vostri acquisti, di usare il mio link di affiliazione Amazon che trovate nell'info box. A voi non costa niente, mentre io avrò una piccola percentuale per migliorare la qualità dei video e contenuti del canale. Grazie! Prologo Era aprile in Inghilterra, quindi era logico che piovesse. Gli inglesi, altrettanto logicamente, erano felicissimi perché il tempo era orribile e avevano un motivo per lamentarsi. Ma quel giorno in particolare? I londinesi erano ancora più entusiasti, perché non solo stava piovendo, ma c'era anche un temporale. Tuoni, fulmini e venti ruggenti spazzavano le strade di Londra, portando con sé chili e chili di spazzatura, gatti malnutriti, spazzacamini e una sfortunata donzella con un'ampia sottana rosa che aveva deciso di uscire di nascosto dalla sua rispettabile dimora per sbaciucchiarsi con un uomo non così irrispettabile. Nelle parti più chic della città, gli aristocratici grassocci sedevano su cuscini ben imbottiti deplorando lo stato dell'economia, della politica e della letteratura. Unica eccezione era la magione dei Blackthorn, una vera e propria fortezza dove risiedeva l'attuale duca di Blackthorn, Charles Cornelius Radcliffe. Dicevano che la storia della famiglia Radcliffe potesse essere fatta risalire a centinaia di migliaia di anni. Questo cioè, se qualcuno era di larghe vedute, era un tipo fiducioso, o meglio ancora, avesse la testa vuota. Sir Henry Woodville, la creatura vivente più vecchia nella dimora dei Blackthorn, non era certo fino a quando si potesse far risalire la storia, ma, cercando, era sicuro che gli antenati della famiglia Radcliffe fossero stati creatori originali dell'Atlantide di Platone e, dopo qualche bicchierino, confessava che avrebbero potuto essere Adamo ed Eva. Nei circoli più esclusivi si sussurrava che Sir Henry Woodville potesse essere un pochettino senile. Quindi la residenza dei Blackthorn si ergeva possente e fiera e lottava contro l'assalto della pioggia sversante, mentre all'interno delle sue mura grigie la duchessa vedove e sua figlia, Lady Annie Radcliffe, erano strette accanto al fuoco e trasalivano delicatamente ogni qualvolta il tuono ruggiva. Non stavano discorrendo di argomenti appropriati, ma aspettavano l'arrivo della nostra eroina, Miss Penelope Winfred Rose Steffington Fairweather. Ed è qui che comincia la nostra storia. Capitolo 1. La duchessa vedova di Blackthorn, che per brevità d'ora in poi chiameremo semplicemente la duchessa, lanciò un'occhiata preoccupata alla porta, mentre Lady Annie fissava l'orologio a pendolo ordinando mentalmente alle lancette giganti di muoversi. È in ritardo, mamma. Arriverà presto. Pensate che sia morta? Annie, non è poi così in ritardo. Sì, ma arriva da lontano, da quel villaggio. Fini, è tutto il giorno che piove e ha rifiutato la carrozza che le abbiamo offerto. La diligenza potrebbe essere finita in una buca ed essersi rovesciata. Immagino che sia distesa in un fosso, con il sangue che si raccoglie sotto il suo corpo contorto e nemmeno un'anima in vista. È Fin Shear e non Fini e ha con sé la sua cameriera. Beh, allora è morta anche la cameriera. Il peso della diligenza ha fatto fuori lei prima della sua padrona. La povera Miss Fairweather si contorceva e ha tremato per un'eternità, lottando per quell'ultimo respiro. Prenderò seriamente in considerazione il tuo vivido scenario se Miss Fairweather non arriverà entro le prossime cinque ore. Fino ad allora potremmo conversare come gentildonne. Se tuo fratello ti sentisse parlare in questo modo, ti spedirebbe in campagna per le prossime tre stagioni. Sono annoiata. Non posso andare a far compere, a cavalcare o sentirmi eccitata per la stagione. Sapete che ho partecipato a 105 balli solo l'anno scorso senza contare le cene e i ricevimenti pomeridiani. A Miss Fairweather sarebbe piaciuto partecipare a 105 balli l'anno scorso. Hai avuto il piacere di tre stagioni, mentre la povera Cara non ha mai avuto altro che qualche ballo al villaggio. Come pensate che sia? L'avete mai vista? Non l'ho mai vista, ma sua madre e io abbiamo frequentato la stessa accademia per giovani donne. Sua madre Grace era brillante, piena di vite e di allegria, e se sua figlia le assomiglia almeno in parte... Era. Sua madre morì dando alla luce Miss Penelope Fairweather. Il signor Thomas Fairweather, il padre di Penelope, sposò la figlia del vicario Gertrude, meno di un anno dal funerale di Grace. Gertrude, poi, ha messo al mondo altre cinque figlie. Ho cominciato a scrivere a Gertrude per assicurarmi che la figlia di Grace fosse in buone mani dopo... Non potevate permettere che la matrigna affogasse la bambina? La interruppe Lady Annie. Annie, Miss Fairweather non è un gattino indesiderato. Dov'ero? Ah sì. Gertrude mi scrive spesso. Le sue lettere sono piene delle marachelle delle sue figlie. Mi sembra di conoscerle. Disse la duchessa in tono sognante. Immaginavo di vederle crescere. Piangevano giorno e notte e cadevano dagli alberi di mele. State di nuovo divagando, mamma. Non mi interessano le sorelle di Miss Fairweather. Voglio sapere di lei. Perché? Non hai mai mostrato tanto interesse per nessun'altra delle mie ospiti. Lady Annie succhiò una caramella al limone arricciando le labbra mentre rifletteva. Gli altri vostri ospiti erano tutti uguali. Dicevano le stesse cose, erano cresciuti allo stesso modo e indossavano tutti gli stessi abiti. Era come se Dio avesse messo una sola dame e un solo gentiluomo inglese negli stampi e avesse continuato a ricrearli uguali. Riesco a prevedere che risposte daranno alle mie domande. Nessuno di loro è originale, mentre Miss Fairweather sembra originale. Originale? Non ho mai conosciuto una buzzurra prima d'ora. Annie! Beh, è vero, no? Come accidenti farete a presentarla in società? Grace, sua madre, aveva ottime maniere. Era un po' vivace, ma era sempre una dama. E mi aspetto che Gertrude abbia allevato correttamente la sua figliastra. Quindi ha cinque sorelle? Sì, cinque sorelle minori. Sei ragazze e non abbastanza soldi per una stagione per nessuna di loro. Penso che la tua amica avesse altro di cui preoccuparsi che non insegnare alle ragazze come fare la riverenza e tenere un ventaglio. La duchessa beve un sorso di tè e non rispose. Quindi ho ragione. No, sono certa che Miss Fairweather conosca i fondamentali. Riesco a sentire un ma. Sembra che Gertrude straveda per Miss Fairweather. Eppure, quando le ho chiesto se avrei potuto sponsorizzare la stagione di Penelope a Londra, la sua risposta è stata poco entusiasta. Mi ha messo in guardia. La ragazza è ottusa? No, Annie, la ragazza non è ottusa. La duchessa fece una pausa e poi aggiunse. Almeno spero di no. Lady Annie sorrise trionfante. Non vedo l'ora di conoscerla. Resterai delosa. La ragazza sarà spaventata e probabilmente non spiccicherà parola il primo giorno. Inoltre non sono sicura che Gertrude non sia prevenuta. È la matregna e penso che fosse riluttante a mandarmi la figlia di Grace. Ho avuto la sensazione che avrebbe preferito che mi assumessi la responsabilità di una delle sue. Non posso biasimarla, ma mi preoccupa il pensiero che Penelope sia stata trascurata. Miss Penelope Fairweather, disse Annie come per esaminare il nome a voce alta. Avrai capelli rossi e scintillanti occhi neri, una strega con una bellezza che incanterà il ton. Sarà timida con i capelli occhi castani, un vero e proprio topolino, replicò la duchessa. In ogni caso adesso è morta. Non sono ancora passate nemmeno due ore dall'ora prevista del suo arrivo. Spero che non sia morta. È la mia unica speranza di riuscire a sopravvivere alla stagione. La duchessa alzò gli occhi al cielo e riprese a sferruzzare. Rimasero seduti in silenzio, dando ogni tanto un'occhiata all'orologio a pendolo. Man mano che passavano i minuti, la duchessa cominciava a preoccuparsi e Annie diventava sempre più impaziente. «Faccio portare ancora un po' di tè?» chiese finalmente Lady Annie. Lady Annie fece per suonare il campanello, ma prima che potesse farlo entrò il maggior domo. «Miss Fairweather», annunciò. «Fatela entrare», disse Lady Annie rimettendo a posto il campanello. Un dito esitante spinse la porta fino ad aprirla e poi entrò il resto di Miss Fairweather. La duchessa e Lady Annie esaminarono con interesse la nuova arrivata. Miss Fairweather non era graziosa, ne avrebbe mai potuto far tappezzeria. Era agreste, una creatura dei boschi, con un'aura quasi fatata. Con lei aveva portato la nebbia, la pioggia e il temporale nel salotto della residenza dei Blackthorn. Aveva i capelli e gli occhi castani, ma erano l'unica cosa che corrispondeva alla predizione della duchessa. I suoi capelli scuri e selvaggi sfidavano la moltitudine di forcine infilate qua e là. Il cappellino era di traverso e, appoggiato precariamente come era sulla testa, minacciava di cadere da un momento all'altro. Il naso era delicato, con la punta rotonda e rosa. Il mento era testardo e la bocca aggraziata. Sulle guance arrossate fiorivano lentiggini ribelli. Gli occhi vivaci e brillanti ispezionarono curiosi la stanza e la mano che stringeva la sottana era l'unico indizio che fosse nervosa. Indossava un abito in forme schizzato di fango, che fece rabbrividire entrambe le donne. Ma non fu il vestito l'aspetto della giovane donna che fece strillare le di Ennio urlare terrorizzata la duchessa. Fu la capretta. Miss Penelope Fairweather si era precipitata nella stanza seguita da una capra, un animaletto non molto grosso con gli zoccoli neri e un brillante naso vellutato. La bestiolina fissava la stanza attraverso le lunghe ciglia, con gli zoccoli che scavavano nel folto tappeto azzurro. Miss Fairweather fece la riverenza, indirizzando l'elegante gesto non alla duchessa o al Lady Annie, ma al maggiordomo. Grazie Perkins, è tutto. Si affrettò a interromperla la duchessa, proprio mentre Miss Fairweather apriva la bocca per chiedere al maggiordomo come si chiamasse. Perkins se la svignò sollevato, manovrando attentamente per restare alla larga dalla capra. La duchessa riprese il contegno. Miss Fairweather, sono felicissima di avervi qui. Cominciavamo a preoccuparci, con la pioggia e il temporale. Avete portato una capra? Finì bruscamente. Miss Penelope Fairweather era lì, gocciolante, e ai suoi piedi si stava formando una piccola pozza d'acqua. Vide il lusso del salotto azzurro e il fuoco ardente che la chiamava. Le scarpine di pelle fecero chaff chaff quando si affrettò ad avvicinarsi e a fare una riverenza rivolta nella direzione generale delle due donne. Sì, questa è la mia amica, Lady Bathsheba. Lady Bathsheba, questa è... la duchessa e... Lady Annie, le disse gentilmente Lady Annie. Lady Annie, e staremo con loro per un po'. Si rivolse alla duchessa. Ho sentito che alcune delle dame a Londra hanno tigri ed elefanti, quindi ho pensato che la mia piccola minuscola capretta non avrebbe causato problemi. Il sopracciglio destro di sua grazia partì verso l'alto. Lady Annie sorrise. Non era mai successo che la presentassero a una capra. Penelope continuò a parlare, senza rendersi conto dell'impressione che stava causando. Mary avrebbe dovuto portarla nelle cucine, ma la poverina temeva di fare un'impressione sbagliata ai piani bassi, cioè una cameriera personale che arriva con una capretta non fa buona impressione. Tra i servitori si deve apparire risoluti fin dall'inizio, altrimenti si finisce con l'avere i compiti peggiori. Me l'ha detto Mary. Vuole piacere a tutti e magari trovare uno stalliere da sposare. Le piacciono i bambini, si deve essere sposati per avere i bambini. Ma Lily, la nostra vicina, è stata spedita a Dublino perché ha avuto un bambino senza marito. Che è strano. Quindi... Mary ha detto che una cameriera con una capretta non è desiderabile. Ho accettato di tenere la capretta finché avrà fatto buona impressione da basso e... Penelope esitò davanti all'espressione critica negli occhi della duchessa, che ricadde contro lo schienale. Guardò la ragazza nervosa con un misto di divertimento ed esasperazione. La primura di Miss Fairweather nei confronti della sua cameriera era lodevole, eppure l'indifferenza riguardo l'impressione che lei stessa avrebbe fatto arrivando con la capretta era tutta un'altra faccenda. Avrebbe voluto coprire le orecchie di sua figlia, che stava ascoltando avidamente. Avrebbe voluto rimproverare Penelope, ma non poteva, dato che la ragazza era appena arrivata. Doveva prendere le cose con calma. Si poteva ignorare questo singolo errore. Un cuore tenero non era una cosa così brutta ed era possibile insegnarle i giusti argomenti di conversazione. Diede un'occhiata a sua figlia, che sembrava aver ricevuto un enorme regalo avvolto in stoffa dorata con grandi fiocchi che pendevano ai lati. E non c'era da meravigliarsi. Miss Fairweather aveva portato con sé una capretta e aveva fatto la riverenza al maggiordomo. Sarebbe potuto andare peggio. La ragazza poteva essere morta in una pozza di sangue. Siete fradici a mia cara, vi piacerebbe cambiarvi? Non vorremmo che prendeste il raffreddore proprio appena arrivata? chiese la duchessa. Grazie, ma non credo che a me ripiacerebbe che la mettessi al lavoro dopo il nostro lungo viaggio da Finnshire. Inoltre vedo che non avete ancora bevuto il tè. Non voglio farvi attendere oltre. Mi siederò accanto al fuoco e sarò asciutta in un attimo. Sì, ma state gocciolando, esclamò Lady Annie. Oh, mi dispiace, siete preoccupata per i mobili. Non pensavo. Non siate sciocca, un po' d'acqua non danneggerà i cuscini. Disse la duchessa con un'occhiataccia alla figlia. Beh, non dovete preoccuparvi per me. Sono rimasta sotto la pioggia un mucchio di volte e non ho mai preso un raffreddore. La vecchia migera, cioè la guaritrice nel nostro villaggio, dice spesso che il tuono rumba per spaventare i deboli di cuore. Il fulmine serve a far scappare a casa la gente. Ma solo i coraggiosi restano per sentire la felice pioggia sulla pelle. Non i coraggiosi, ma gli sciocchi a cui non importa rischiare di morire. Borbottò sottovoce Lady Annie. La duchessa si stava torcendo disperatamente le mani. Si chiese se la ragazza non fosse per caso un po' tocca. Pioggia felice, una capretta per amica e voler prendere il tè bagnata fradicia. E non erano ancora passati cinque minuti dal suo arrivo. Si massaggiò la tempia. Era sicura che il mal di testa non avrebbe tardato ad arrivare. Fece segno a Miss Fairweather di sedersi, cercando disperatamente di trovare una soluzione per presentare al ton l'impresentabile. Spero che questo assaggio di lettura vi sia piaciuto. Per scoprire come procederà la storia, non vi resta che leggere il libro. Se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti, o volete darmi qualche suggerimento o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me, scrivetemi nei commenti o sui miei social che trovate nell'info box. E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault. Alla prossima, ciao!